ciao a tutti amici io sono franco verso e oggi andiamo a vedere una tecnica semplice abbastanza veloce da realizzare in fusion di cosa si tratta facciamo apparire una scritta proprio scrivendola così ti piace beh allora andiamo a vedere come si fa andiamo a creare una new fusion composition inserite il frame rate che desiderate ad esempio 25 pal clicchiamo ok e portiamo la new fusion composition in timeline la clicchiamo per evidenziarla e andiamo in fusion spostiamo il nostro media out andiamo a prendere un nodo di testo lo portiamo giù un testo 2d scriviamo quello che ho scritto io mi piace e con il punto di domanda trasciniamo questo nodo qui per visualizzarlo l'importante è andare a prendere una scritta è abbastanza lineare poi con il tempo potete anche provare con scritte meno lineari improviamo a prendere questo stile diamogli un colore e posizioniamo qui se volete anche assegnare un colore alla scritta potete farlo da qua oppure cambiare il colore successivamente ora come facciamo a far apparire questa scritta facciamo così prendiamo un background lasciatelo nero e spostate l'alfa in trasparente questo è molto importante prendiamo un paint e mettiamolo qui lo agganciamo al background e poi mettiamo un merge e andiamo a unire quello che è il testo con il paint quindi uniamo il paint e il testo al merge e visualizziamo qui clicchiamo sul paint e come vedete ci vengono i comandi per poter scrivere quindi prendiamo questo polyline stroke andiamo così dentro mettete sul paint un colore che sia visibile ad esempio un rosso tanto non ha importanza partiamo ad esempio da qua sotto da sotto la t dopo dipende voi come volete far comparire il vostro testo io farò prima questa e poi questa cioè andiamo a disegnare sopra il carattere un percorso clicco qui clicco qui attenzione questo è molto importante non andare sopra e adesso vi faccio vedere perché invertiamo il merge così possiamo vedere il nostro fondo vedete inoltre sempre selezioniamo nodo paint andiamo a regolare il nostro brush perché vedete che ora è soft non per cui si vede un po' il giallo che fuoriesce quindi andiamo su brush control clicchiamo questo che è circolare ma è pieno vedete e possiamo abbassare questo in base alla dimensione e allo spessore del nostro font quindi così va bene anzi per evitare che vedete queste parti arrotondate sbordino potremo selezionare anche il quadrato allora in questo caso andiamo a ridimensionare un pochino poi possiamo entrare control e rotellina del mouse per andare a posizionare vedete bene il nostro font ecco qua la nostra pittura super font adesso dobbiamo far apparire questa quindi in realtà non è difficile vi sto spiegando la tecnica ci spostiamo di qua tanto questo non si vedrà poi vi spiego perché andate sopra allineate questa e la fate tutta così quindi vedete stiamo facendo un tratto unico che passi sulle parti dei caratteri questo si può fare come vi dicevo anche con qualsiasi disegno basta qua far entrare un disegno anche il vostro logo dopo se riesco ve lo faccio vedere e quindi coprire con il paint nella stessa maniera il vostro logo ad esempio sapete carino le piante che crescono eccetera è molto bello stessa cosa per la i andiamo giù possiamo fare qualsiasi spostamento al di fuori del carattere non ha nessuna importanza l'importante è allinearci bene con il carattere e quindi passare sopra il carattere che venga coperto bene stessa cosa per la p ci spostiamo qua sotto possiamo fare anche due movimenti se andiamo meglio e qua stiamo attenti spostiamo così ecco vedete dobbiamo evitare che succeda questo ora possiamo anche correggere e allineare bene che non vada a colorare parti che non fanno parte della linea retta per quello vi ho detto non prendete caratteri troppo strani dove i pezzi si sormontano se perché vogliate un buon risultato perché altrimenti si può fare anche in una maniera più approssimativa qui andiamo a tracciare così sopra il nostro cerchio attenzione queste parti così poi potete anche arrotondare qua vedete o poi andarlo a arrotondare dopo inserendo delle curve andiamo sul prossimo carattere una i quindi mi sposto qui sotto lo allineo bene e traccio una linea dritta la stesso problema con la attenzione alla diagonale quindi mi sposto qui provo a tracciare questa parte della a potete anche tornare indietro sullo stesso tratto e poi tracciate l'altra parte potete tornare anche così indietro ripassiamo sopra questo vedete dovete fare tutto un tratto continuo poi si può fare anche con un'altra tecnica facciamo così e qua passiamo la c tutta attorno adesso qua vi faccio vedere come arrotondare così andate bene intanto andiamo avanti scendiamo giù facciamo la e adesso lo faccio un po' più veloce ecco ecco magari la e la facciamo così questa volta torniamo indietro usciamo fuori veniamo qua facciamo bene il puntino e poi saliamo a fare questo qui e abbiamo finito con questo andiamo qui prendiamo questa parte qui con questo più selezioniamo le parti qui della c e se prendiamo questa curva vedete che viene arrotondato quando vediamo un pezzo che esce quindi portiamo attenzione a selezionare solo uno e lo portiamo dentro e così anche qua ecco vedete che se avete qualcosa che sbava lo potete ritoccare quindi potete vedere ad esempio se qua un po uscito ma sono piccole parti magari non si vedono ecco qua il lungo lavoro è quello di ripassare ovviamente riusciamo a capire che questo effetto non potremo cambiare la scritta e avere percorso sopra perché dovete farlo di volta in volta quindi va fatto per cose animazioni che sapete saranno uniche ok adesso andiamo a vedere cosa succede andiamo a visualizzare questo nodo e ecco qua quindi adesso qui sul merge l'importante è che su operatore scrivete in e guardate cosa succede adesso abbiamo la scritta che non si vede più il pasticcio ma si vede pieno andiamo sul paint e muoviamo il white guardate sparisce completamente la scritta mettete il colore qui sul paint qui volete che appaia la scritta ad esempio il giallo che avevate messo sul testo eccolo qua e quindi con bright andate a 0 ora creiamo l'animazione spostiamoci ad esempio a 5 frame premiamo i keyframe ci spostiamo a 30 ad esempio e scriviamo questa cosa si può fare sia in scrittura adesso andiamo un po' avanti diamo un punto in questo punto qui andiamo un po' avanti ancora e cancelliamo vedete che si può anche cancellare bene la nostra animazione è finita ma andiamo a creare un background mettiamo il media out qui quindi vedete che con 4 nodi abbiamo fatto tutto ora creiamo solo il background eccolo qua decidete il vostro background come deve essere io faccio una sfumatura verticale da celestino la faccio a blu la vado a unire la vedo la vediamo fuori eccolo qua e collego questo all'uscita del background andiamo a vedere l'animazione come vedete si scrive e poi si cancella adesso la velocità dell'animazione dipenderà da quanto siete stati alzare bright proviamo ad andare nella edit e vederla in tempo normale ed ecco qua la nostra animazione è un po' veloce e va un po' a scatti quindi eventualmente cosa dovete fare dovete cambiare i punti qui e ad esempio andiamo sui keyframe e spostiamo questi dove si cancella magari la facciamo cancellare più velocemente e la facciamo scrivere invece più lentamente adesso un po' sarà cambiata poi dipende anche molto dalla dimensione del pennello rispetto al font vedete che così è più piacevole e adesso si cancellerà molto veloce e come avete visto poi questa cosa dipende molto dal font guardate qui che ho scelto un altro font qui ho aggiunto anche un piccolo dynamic zoom per avere questa zoomata mentre si scrive ecco stessa cosa come dicevo possiamo farla possiamo ottenerla ovviamente adesso vado a rimuovere il paint mettendo un qualsiasi disegno giri goro ecco adesso ho messo un poligono dentro un background ho fatto background verde e adesso con il poligono posso andarmi a disegnare con questo penmino ad esempio un mio giri goro va bene mettiamo che questo sia il mio giri goro in uscita lo vado a inserire qui quindi andiamo a visualizzare il merge il merge devo rimetterlo over perché sarà normale ecco qua e adesso qua mettiamo il nostro paint come abbiamo fatto prima prendiamo come prima un vettoriale così e posso andare vedete a colorare così sopra adesso è invertito posso anche lasciare il soft se desidero poi vado qui invertiamo il nodo e faccio come prima in assegno a questo il colore verde adesso io sto facendo un po' veloce ma è per farvi vedere che abbiamo già visto e qui ora animando lo stroke vedete che io vado a disegnare ad esempio la mia piantina che cresce quindi uno servirà quella parte sopra servirà da disegno la parte sotto è un paint che serve per farlo apparire ad esempio qua potrebbe essere potrei continuare in più con la stessa tecnica ovviamente posso se ad esempio questa cosa fosse complessa se qua avessi una foglia potrei creare la foglia qui e un altro paint che fa apparire solo la foglia anche con colori diversi ovviamente in questa maniera posso andare a creare cose complesse e ecco qua vedete il mio giri coro che si forma qui avevo ancora lo zoom da prima andando aggiungere dopo il paint un merge e un background con il background si può andare vedete io ho scelto il gradient e posso andare a selezionare dei colori per andare a colorare il mio paint per non lasciarlo di un unico colore e ecco qua il mio giri coro colorato con due colori io spero che questo tutorial vi piaccia mi raccomando mettete un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella fate tre saltini e mandatemi un bacio ciao a tutti e alla prossima volta grazie